Ciao, sono Nicola del negozio Passport. Prima di tutto amici vi invito a iscrivervi al nostro canale YouTube e ad attivare la campanellina per restare sempre aggiornati sulle nostre importanti novità. A proposito di novità, oggi voglio mostrarti una nuova chicca del nostro negozio. Eccola qua, la nuova Scott Speed Carbon RC, la prima scarpa con la piastra in carbonio di Scott. Andiamo ora nelle caratteristiche tecniche di questa nuova calzatura. La tomaia è un monofilo super leggero, molto traspirante, si vede quasi il mio dito, quindi veramente leggerissimo, ma molto resistente e performante. La calzata con questa allacciatura è bella asciutta, ma abbiamo un ottimo spazio per le dita in avampiede. Nel tallone è presente una conchiglia semirigida che garantisce un ottimo comfort al tallone e un buon contenimento. Andiamo ora nella parte più interessante di questa scarpa, ovvero l'intersuola. Come detto all'inizio è una scarpa che ha la piastra in carbonio. In questo caso abbiamo una nuova tecnologia che si chiama Carbitex. Il Carbitex è una piastra in carbonio molto performante, perché abbiamo un'ottima reattività, quindi un'ottima elasticità, ma il materiale non tende ad essere troppo rigido e quindi non andare a stressare troppo quello che è la muscolatura e il tendine. Il Carbitex è praticamente una fibra, però ha una membrana che la rende più, non rigida, non troppo rigida. Quindi è flessibile, elastica, ma non dà botte a scatti per capirsi. La scarpa ha degli stack di 30 mm nel posteriore e 25 mm nell'anteriore, quindi il differenziale è di 5 mm. Il peso nella calzatura uomo è di soli 250 grammi. Ovviamente stiamo parlando di una scarpa da gara molto performante, adatta alla strada. Abbiamo un battistrada molto leggero, ma anche molto resistente. L'abbiamo testata anche nei terreni asfaltati, scivolosi e posso garantirvi che il grip è davvero notevole. Che dire ragazzi, questa è una scarpa che possiamo consigliare ad un pubblico molto ampio. È una scarpa considerata molto veloce e reattiva, quindi sicuramente per gli allenamenti veloci o per le gare anche medio-lunghe. Ovviamente fatte a ritmi importanti. Però se anche tu vuoi provare l'esperienza carbonio, con questi differenziali, con questi stack, questa scarpa garantisce un'ottima protezione. Quindi anche per i ritmi medi possiamo tranquillamente consigliarla. Vi aspetto a provarla nei nostri negozi sia a Busche che a Signoressa, oppure se abiti lontano anche online sul sito www.passport.it. Ciao!